Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabriele Gagliano e oggi sono un nuovo video con una recensione delle fairy lights che sono luci di Natale e energia solare. Vedete qua ci sono le istruzioni scritte in inglese. Dovrebbe metterci 7-8 ore a caricare come potete vedere, ma alla fine oggi in 3 ore me l'ha caricato e adesso vanno. Poi ve le faccio vedere. Queste qui sono le luci, sono molto sottili, io le ho legate con un filo di spago le lucine sono queste qua, sono piccole ma luce la fanno non tanto fastidiosa, un po' di lucina. Questo è il pannellino e poi avete la base da attaccarlo che è questa qua più il picchetto che è questo qua, se volete piantarlo nel giardino, sempre se volete comprarlo. Io allora vi dico la mia, adesso metto a posto, tanto io ne ho presi due pacchi. Allora, gli ho dato 20 euro che c'era uno sconto su Amazon, tutte e due. Ho scioperto, almeno le vedete. Tutte e due, 20 euro. Allora, io vi do un consiglio. Se le volete potenti c'è un altro modello su Amazon che trovate molto colorate, perché queste qui sono gialle che vi costano 19. Io l'ho pagata 20, ma non date due modelli. No, qui c'è il gatto, scusate. E praticamente, scusate, nessun maltratamento, me lo sono spostato. E praticamente, stavo dicendo che non fanno tanta luce, cioè la fanno ma non dà fastidio. Se volete qualcosa di più potente potete provare quel modello. Comunque, io questo l'ho preso su Amazon. Mettete luce natale col pannellino solare e ve le trovate. Allora, adesso vi faccio vedere fuori. Qui c'è il gatto che si intromette un po'. Allora. Fuori sono così. Come potete vedere, sono così. Non fanno tantissima luce. Però un po' si è nota, dai. E vabbè, adesso torno dentro perché fuori fa freddo. Allora. Hanno altri, hanno dei giochi di luce. Se volete un video per vedere che vi incuriosisce, prima di comprarle, giochi di luce, me lo dite. Io vi faccio un video dedicato dove sono su balcone, anche se non fa tantissimo caldo, però vabbè. Dove vi faccio vedere tutti i giochi di luce che ci sono. Ce ne sono un bel po', tipo se c'è, non si spengono, poi vanno tutte a ritmo. Vabbè, lì, se volete, lasciate like, me lo scrivete nei commenti, vi faccio un video dedicato. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Una breve recensione. Io vi dico, se vi piacciono le luci che non avete la presa su balcone come a me, ve la consiglio. Non pensate che facciano chissà cosa, però per quel piccolo che hanno, lo fanno. Non spendete niente di luce perché appuntano al pannellino. Ah, sono impremeabili, quindi ve le consiglio e le trovate su Amazon. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.